Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato dalle lettere dal titolo Jacopone da Todi, poesia mistica rivolta nell'Italia del Medioevo di Franco Sweetner che come sempre abbiamo il piacere, l'enorme piacere di avere il nostro gradito ospite per parlarci di questo interessante volume. Quindi io le lascio subito la parola professore. Prego, a lei. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei e prima di tutto naturalmente io ringrazio per questo invito che ho accolto con un grande, con un particolare piacere insomma, che mi consente di dire qualcosa sul libro appunto agli ascoltatori di Rete Medievale. Ho avuto un particolare piacere perché Jacopone, che naturalmente tutti conoscono come poeta, è tuttavia un personaggio in realtà importante per tanti motivi, insomma, è importante per la storia religiosa, la storia della Chiesa, ma è importante come personaggio della storia medievale, insomma, e quindi è molto importante in questo senso poter proporre il libro così direi che hanno un interesse più generale insomma per la medievistica. Questo volume è la versione diciamo rielaborata e aggiornata di un primo testo diciamo che era uscito presso l'editore Donzelli nel 1900 appunto e 99, ma era ormai passato tanto tempo, vero, dall'uscita di questo libro. Gli studi su Jacopone sia condotti da me ma anche condotti da altri importanti colleghi, vero, avevano avuto un grande sviluppo e quindi era assolutamente necessario integrare appunto e aggiornare il volume che tra l'altro appunto non era più disponibile insomma da molto tempo. Del resto c'è anche da dire che sono piuttosto pochi le opere disponibili almeno in forma di libro usufruibile dalla generalità del pubblico, vero, su questo personaggio. Ci sono tanti atti di convegni, tanti interventi nella letteratura specialistica, ma sono tutto sommato pochi i testi a cui un lettore appunto appassionato di queste cose appunto possa rivolgersi. Il libro è stato concepito in maniera da farne diciamo un'opera appunto che fosse insieme sia rigorosa da un punto di vista scientifico ma anche appunto leggibile e in questo senso già nella edizione precedente era stata fatta la scelta in accordo con l'editore diciamo di separare il testo per consentire ai lettori che lo desiderano una lettura più fluida e invece l'apparato di annotazioni e l'apparato bibliografico porlo diciamo appunto nella parte appunto finale del volume. La traccia che segue il libro è di tipo sostanzialmente biografico quindi si tratta della storia di una vita anche se naturalmente poi per spiegare questa vita si fa spesso ricorso naturalmente anche ai testi poetici quindi di Jacopone e quindi si cerca così di dare di offrire anche una sorta di introduzione appunto al complesso appunto delle sue poesie. È quasi un luogo comune quello di scrivere che della vita di Jacopone si sa molto molto poco vero o quasi niente ecco in questo luogo comune c'è secondo me qualcosa di di vero ma anche qualcosa forse di non di non così vero insomma. Dobbiamo fare ovviamente qualche confronto qualche paragone forse il primo scrittore della storia letteraria italiana di cui si sappia tantissimo nella vita è forse Francesco Petrarca ma già su Dante è vero sappiamo molto ma abbiamo delle grosse zone di oscurità dei tantissimi dubbi come si è visto anche recentemente nella ampia eh produzione no di biografie che ha accompagnato il suo eh centenario ma se pensiamo agli scrittori che sono venuti prima di Dante beh spesso sono poco più che dei nomi no se noi pensiamo a a Giacomo Dalentini il fondatore della scuola eh siciliana a a Guittone d'Arezzo a Buonaggiunta da Lucca ai vari spesso sono dei nomi qualche volta naturalmente abbiamo delle citazioni nei documenti eh qualche atto vergato ecco se erano notai come nel caso di Giacomo Dalentini ma cose rarissime non si sa pressoché niente insomma di questi eh della vita eh di questi personaggi ora di Giacopone se si fa il confronto con loro invece eh abbiamo eh molti dati molte indicazioni a partire da dal fatto che già accennavo e cioè che Giacopone parla molto di sé nel suo eh laudario naturalmente quello che dice va in qualche modo vagliato esaminato ovvero eh è quello che dice uno scrittore non non bisogna trovare riferimenti autobiografici naturalmente in tutto quello che eh eh scrive eh scrive. Giacopone è diventato eh da subito in qualche modo un personaggio importante nella sua eh comunità eh comunità eh in quella dei frati minori di Todi e degli Umbria in quella della sua città eh per cui su di lui sono eh nate anche delle biografie eh che noi possiamo definire antiche insomma fra virgolette ma che in realtà eh nelle nelle versioni più antiche risalgono probabilmente al al quattrocento quindi insomma più di un secolo dopo ovvero della scomparsa di eh Giacopone. Si è visto naturalmente che sono spesso fantasiose anche sono spesso tendenziose e traggono notizie direttamente dalle poesie senza possibilità di eh verificarle qualche volta sono un po' inquinate anche dall'esigenza di fare qualche eh favore a a famiglie eh locali e via dicendo ma in ogni caso costituiscono però anch'esse un documento eh importante naturalmente per quello che ci rivelano della eh percezione storica del personaggio prima di tutto all'interno della sua eh comunità di 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 appartenenza e quindi soprattutto dell'ambiente eh dell'ambiente di Todi e eh eh e e e quindi sono appunto eh piuttosto eh significative non possiamo nemmeno escludere che naturalmente in qualche caso possano portare fino a noi vero qualche notizia che se era aveva avuto una trasmissione nell'ambiente appunto per via eh orale quindi non è eh non dobbiamo concludere che tutto quanto scrivono appunto non abbia eh una una sua validità eh Jacopone nasce intorno al mille duecento e trentasei eh sappiamo che ha avuto una eh preparazione anche giuridica questo lo sappiamo dal dalla terminologia giuridica che qualche volta appunto lui impiega nelle sue nelle sue nelle sue laude al mille duecento e sessantotto e questa data la sappiamo con una certa precisione perché in fondo la indica lui stesso poi in uno dei suoi eh dei suoi testi avviene eh forse il fatto capitale della sua vita cioè eh la conversione ehm non sappiamo esattamente che professione facesse prima se procuratore qualcuno dice anche notaio qualcosa probabilmente di legato agli studi eh giuridici secondo il racconto della leggenda appunto eh quelle leggende a cui facevo eh riferimento la conversione sarebbe eh avvenuta a seguito di un fatto un po' particolare è vero la la moglie eh si era recata a una festa danzante perché il pavimento della sala era crollato la moglie muore Jacopone che non era presente viene richiamato e sotto le vesti della moglie viene scoperto appunto un cilizio quindi uno strumento di penitenza eh il marito che sarebbe stato all'oscuro diciamo di questa di questa seconda vita da penitente della moglie sarebbe rimasto sconvolto e a seguito di questi fatti si sarebbe fatto bizzocco ecco eh cos'erano i bizzocchi eh liberi penitenti in qualche modo che non avevano ancora non avevano aderito a un ordine religioso anche se spesso erano in collegamento vero con con gli ordini soprattutto gli ordini mendicanti appunto del del tempo e e che quindi pur mantenendo naturalmente uno stato laicale poi si dedicavano o attività o di preghiera o di assistenza eh dei poveri appunto di vario tipo Jacopone per dieci anni avrebbe vissuto questa condizione cioè fino al milleduecentosettantotto eh anno invece a cui risalirebbe la sua entrata nell'ordine dei frati minori vero quelli che noi chiamiamo i francescani ma che è più corretto definire appunto i frati eh i frati minori. A quell'epoca eh parecchie tensioni a eh diciamo circolano fra i francescani vero in modo particolare fra le tendenze al loro interno che erano più rigoriste vero eh coloro che eh esigevano e cercavano un rispetto più alla lettera vero della dei dei precetti della regola di Francesco appunto del suo testamento e quella parte eh invece dell'ordine che eh in qualche modo accettava più di buon grado diciamo i compromessi organizzativi che e nel frattempo erano intervenuti vero Francesco non aveva immaginato il suo eh movimento come un movimento enorme di migliaia di di aderenti eccetera pensava in origine a una piccola comunità vero i francescani invece erano diventati una grandissima eh realtà con esigenze quindi di di strutturarsi eh anche in maniera gerarchica avevano cominciato poi a studiare ad addottorarsi come i frati predicatori i domenicani vuol dire avevano cominciato ad occupare anche cariche importanti nella chiesa eccetera esistevano quindi delle eh tensioni che eh un po' proverbialmente vero si parla di una divisione appunto fra spirituali e conventuali questi termini vanno presi con le molle vero insomma perché eventuali indicherebbe appunto i frati così della della comunità in qualche modo il termine spirituali diciamo comincia a essere impiegato soprattutto successivamente eh con l'inizio appunto soprattutto del del trecento mentre per l'epoca in cui ancora ancora parliamo se ne può parlare solo un po' estensivamente insomma per indicare queste tendenze in ogni caso non vanno intesi come due eh partiti come due movimenti organizzati in nessuna in nessuna maniera si può parlare appunto di certe tendenze diffuse fra i frati più rigoristi più zelanti appunto questi sono forse termini appunto più eh più propri e eh a poco a poco eh ci sembra evidente che le simpatie di Jacopone si spostano appunto sulle posizioni dei rigoristi non solo ma noi sappiamo che col tempo e con gli anni all'interno di eh e presso questi gruppi e in questi ambienti Jacoponi viene eh ad assumere appunto un prestigio tutto particolare e speciale viene eh considerato appunto una persona di riferimento non di riferimento da un punto di vista organizzativo o politico da un punto di vista spirituale da un punto di vista intellettuale è probabile che le sue laude che si diffudevano anche singolarmente o a gruppetti vero eh lo lo rendessero conosciuto all'interno vero di certi ambienti eh dell'ordine abbiamo una prova molto forte di questo quando nel 1294 un gruppo di frati marchigiani ehm in qualche modo ribelli all'ordine proprio perché eh desideravano eh vivere eh secondo i termini stretti vero della regola francescana la cui guida spirituale più importante diventerà eh eh angelo clarino e quindi avranno una una storia importante nella un ruolo importante nella storia dei frati eh minori appunto di questo eh di questo periodo un gruppo di questi frati decide di rivolgersi all'uovo straordinario papa vero che eh era stato eletto dopo un lungo periodo appunto di sede vacante cioè appunto Celestino V un papa ex-eremita che agli occhi dei rigoristi prometteva di poter essere eh l'uomo che comprendeva le loro esigenze vero più di quanto non fosse accaduto appunto prima. Ora eh nella storia in un libro eh cronarchistico molto importante che scrive Angelo Clarino abbiamo eh la notizia che la decisione appunto eh di rivolgersi al papa Celestino V viene approvata appunto da alcuni personaggi considerati carismatici all'interno degli ambienti rigoristici spiritualistici appunto e fra questi personaggi eh viene nominato appunto eh anche appunto Jacopone Jacopone da Todi è sicuramente lui il quale certamente veniva ritenuto appunto già un personaggio di eh riferimento appunto in questi in questi ambienti. Negli anni successivi non sappiamo naturalmente i particolari è molto molto probabile che Jacopone si sia spostato nella zona di Roma o del Lazio dove nel 1297 lo troviamo firmatario del famoso manifesto di lunghezza. La parabola di Celestino eh alla testa della chiesa di Roma è durata pochissimo è vero è stata molto effimera e Jacopone stesso in una famosa lauda vero aveva espresso i suoi dubbi vero sulle capacità del nuovo papa di fronteggiare la situazione ma dopo Celestino era arrivato quello che gli ambienti rigoristici eh dei dei frati minori considereranno un loro nemico giurato appunto che è Bonifacio VIII Bonifacio VIII che naturalmente revoca subito molti dei provvedimenti appunto del suo eh predecessore. Bonifacio VIII a un certo punto di fatto appartenente alla famiglia Caetani ha uno scontro violentissimo con la famiglia Colonna e poi naturalmente anche con la monarchia francese vero con eh con gli angiolini ma a seguito dello scontro con i Colonna famiglia potentissima vero nell'ambito del governo della chiesa a quell'epoca con due cardinali appunto in un collegio cardinalizio che noi non dobbiamo immaginare come quello di oggi vero fatto da 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 più di cento persone ma era fatto da un numero piuttosto ristretto insomma di di eh di personaggi e il papa arriva addirittura a eh promuovere una crociata vero contro i eh Colonna ehm vari possedimenti castelli dei Colonna vero nel Lazio attorno a Roma vengono eh presi vengono conquistati e l'atto forse più importante poi è l'assedio e la caduta della città di Palestrina possedimento appunto dei Colonna. Ora all'interno di Palestrina c'era anche Jacopone vero che eh e sappiamo viene trovarsi anche a Jacopone con la caduta di Palestrina viene eh viene eh tratto eh prigioniero viene probabilmente eh condannato alla prigione perpetua e viene tenuto prigioniero in un convento appunto dei frati minori probabilmente nella stessa appunto città dei Todi. Oggi naturalmente noi ci meravigliamo insomma che nei conventi dei frati ci fossero delle carceri delle delle cose ma invece era un fatto abbastanza comune insomma previsto ovvero per le per le infezioni e in questo caso naturalmente si trattava di qualcosa appunto eh piuttosto piuttosto grave. Eh Jacopone continua vero a scrivere poesie anche in questo periodo abbiamo prova di un suo atteggiamento verso eh Bonifacio che eh prima è assolutamente intransigente vero Jacopone è tra quelli che scrive tutto il male possibile appunto di questo Papa poi col tempo sembra in qualche modo eh essersi ammorbidito ma per via naturalmente della durezza essenzialmente della sua situazione eh personale eh si rivolge al Papa chiedendogli prima di essere almeno liberato dalla dalla scomunica successivamente gli chiede anche e poi di essere in qualche modo eh riportato alla sua vita di comunità insieme appunto ai frati minori. Credo che tutti conoscano anche dal liceo quella lauda famosa in cui eh Jacopone descrive in maniera estremamente realistica e vivace vero la situazione appunto della sua eh carcerazione insomma. Il Papa però non cede da quello che sappiamo e non cede neppure in occasione vero del grande giubileo del 1300 una delle più grandi invenzioni in fondo di di Bonifacio di Bonifacio ottavo insomma quando eh il Papa concede eh perdonanza e in qualche modo sconti insomma è piuttosto estesamente ma eh i seguaci più stretti dei colonne e fressi Jacopone invece non vengono appunto perdonati eh Jacopone uscirà dal suo carcere ma solo qualche anno dopo appunto liberato dal successore di Bonifacio appunto da Benedetto undicesimo vivrà ancora vero per poco per poco tempo. La data tradizionale eh fissa la sua morte al 1306 qualche studioso propone anche un breve anticipo ma insomma questi grosso modo sono gli anni. Secondo la leggenda la leggenda si compiace a immaginare la scomparsa di Jacopone proprio nella notte di Natale appunto del 1306. Si sviluppa eh presto un certo culto ovvero eh di Jacopone un culto locale eh sul versante anche religioso ci sono dei tentativi di beatificarlo che comunque poi eh tant'è vero che poi localmente eh spesso viene chiamato beato ovvero ora figurato in certe immagini appunto con eh la corona luminosa il nimbo dei beati ma in realtà non ci sarà mai un riconoscimento appunto da parte della chiesa eh ufficiale. Si sviluppa parallelamente vero anche la sua reputazione e la sua fama appunto come eh poeta probabilmente in un primo periodo soprattutto attraverso nell'ambito degli ambienti religiosi, dei frati minori o altri movimenti anche italiani eh diciamo di tendenza eh piuttosto rigorista in senso spiritualistico ma eh a poco a poco naturalmente le laude di Jacopone cominciano anche ad apparire invece in raccolte di poesia diciamo di di eh di tipo laico insomma. ma questa naturalmente è una storia eh lenta eh che 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 procede gradualmente vero per 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 molto periodo ehm Jacopone in qualche modo sarà forse danneggiato vero dal fatto di essere collocato nel nella nicchia eh diciamo dei eh poeti appunto di eh religione quindi ehm è lentamente eh appunto che si sviluppa il riconoscimento appunto della sua forza appunto come eh poeta. Peraltro questo tipo di forza non so eh già è riconosciuta molto chiaramente non so nella storia letteraria di De Santis per dire eh una parola per non parlare poi del riconoscimento che gli dà eh un grandissimo studioso come eh Auerbach che in in Mimesis insomma eh eh dove tratta i poeti europei a campione voglio dire ma parla di 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 naturalmente di Dante di eh di Boccaccio ma dedica le pagine a Jacopone scegliendo in realtà pochissimi appunto poeti ehm poeti italiani. quindi eh a poco a poco Jacopone è stato eh riconosciuto come eh certamente una delle maggiori voci diciamo eh contemporanee eh e eh della poesia diciamo che eh precede eh Dante diciamo forse addirittura la eh forse addirittura la 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 principale o la maggiore appunto in senso assoluto. Ecco io adesso avrei finito questa mia breve presentazione e naturalmente se lei vuole farmi qualche domanda o cosa io sono a disposizione. Beh sì eh sicuramente è un personaggio importante ma non è così noto come forse meriterebbe no? Quindi la la prima domanda è come mai questa sua eh non notorietà soprattutto per quello che riguarda il grande pubblico e la poesia e questa è la cosa che mi incuriosisce di più perché poi per il resto la sua esposizione è stata perfetta quindi molto esaustiva. Ecco forse uno dei motivi eh può essere quello a cui accennavo adesso cioè eh il fatto che sia stato confinato per parecchio tempo nell'ambito della produzione di carattere religioso. Ecco e quindi questo può avere attenuato diciamo la sua. Volendo trovare un altro motivo qualcuno ha chiamato Jacopone poeta diseguale cioè possiamo dire non tutte le 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 sue composizioni sono sullo stesso naturalmente livello qualitativo ma nell'ambito delle laude diciamo ce ne sono che sono degli assoluti eh capolavori insomma in qualche eh in qualche modo mh ha una forza espressiva è uno scritto dunque è uno scrittore naturalmente di impianto piuttosto realistico eh ha molto in comune in questo senso con con Dante no insomma perché quando scrive è estremamente preciso e questo non sempre è stato capito insomma eh tradizionalmente eh esprime appunto la realtà in modo appunto molto eh molto forte le sue poesie naturalmente non sono sempre semplicissime vero da 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 comprendere oggi hanno bisogno naturalmente di una forte mediazione eh culturale ma questo però accade anche per Dante diciamo la verità solo che noi siamo abituati a studiare Dante a scuola con eh poche righe di testo in cima e tre quarti di pagina di commento sotto insomma e purtroppo anche anche per Jacopone insomma dobbiamo leggerlo con sussidi di questo genere quindi questo lo rende naturalmente eh un autore appunto eh impegnativo c'è una sezione delle sue laude diciamo che sono piuttosto specializzate quelle di tipo mistico allora è chiaro che per esempio quelle eh interessano molto fortemente naturalmente un certo settore di lettori ma si prestano meno insomma a una eh udienza appunto più più vasta per cui così la conoscenza di Jacopone in Italia è stata è soprattutto legata a un certo numero di laude naturalmente le due più famose sono quella della prigionia a cui facevo riferimento e il famosissimo pianto della della Madonna ai piedi della della croce no? Jacopone riprende un tema che era molto diffuso c'erano molto molto precedenti ma eh riesce a comporre un testo che risulta commovente credo per tutti e anche facile eh da leggere insomma quindi eh una fama per limitata in questo eh in questo senso questo ha forse ridotto anche eh così la eh possibilità ecco della sua eh conoscenza eh all'estero che peraltro c'è ed ha anche dei capitoli eh importanti la bibliografia di Jacopone comprende anche eh attenzione da parte appunto di eh autori stranieri e poco poco fa facevo riferimento a quel giudizio e quelle pagine che gli dedica Auerbach che secondo me sono eh assolutamente eh importantissime insomma quindi eh sì Jacopone meriterebbe meriterebbe diciamo ancora ancora di più eh ma qualcosa eh qualcosa indubbiamente eh c'è ecco è stato è stato fatto e eh io spero appunto che eh anche gli sforzi appunto di dei suoi appassionati e anche di noi che scriviamo su di che per cui che lui insomma possano contribuire diciamo a eh diffondere appunto la la conoscenza la conoscenza della sua poesia. Beh certo sicuramente con il suo libro lei eh si fa capofila di questa necessità no? Quindi è importante ricordare il titolo che è Jacopone da Todi poesia mistica rivolta nell'Italia del medioevo appena pubblicato dalle lettere in questa versione rinnovata e aggiornata e fra l'altro è un volume che è anche diciamo di di prezzo più che accettabile perché sono duecentosettantasei pagine per soli diciannove euro quindi noi invitiamo tutti a riscoprire Jacopone o a scoprire Jacopone andando in libreria e acquistando questo bellissimo volume. Professor io la ringrazio tantissimo. Ai nostri utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troverete tutte le video presentazioni compresa questa e con lei spero di avere nuove future occasioni di collaborazione. Grazie davvero tantissimi. Grazie a lei e al taglio medievale per questa opportunità appunto che mi avete offerto. Grazie di cuore. Grazie a lei e al taglio medievale per questa opportunità.